Dopo Grandolfo arrivano Morrone, Novella e Langella, aspettando i colpi over per la difesa. Il Monopoli comincia a formarsi, anche se ancora lontana, l'idea della squadra tipo che sarà gli ordini di Colombo per l'inizio delle gare ufficiali, fissato per il 21 agosto con la Coppa Italia di Serie C. C'è da sistemare un tassello in difesa con urgenza, Bizzotto è leader e la società li ha proposto un contratto fino al 2024 per fare il perno. Con l'addio di Nicoletti però c'è da trovare un braccetto di sinistra. Si ragiona ancora con Maestrelli e soprattutto con Mercadante, ma al momento non si sblocca nessuna delle due trattative, forse anche per la volontà di Chiricalo, di cercare un profilo più esperto e duttile. A centrocampo Morrone sarà il play, dopo l'esperienza nei settori giovanili di Juventus, Lazio e Salernitana. Il 21enne è chiamato ad una stagione in cui dovrà svestire i pani di Ander e prendere per mano anche i compagni più grandi, come fatto in alcune gare, con la maglia del Foggia l'anno scorso. Con lui Bussaglia, Vassallo e Piccini e la mediana è quasi ok, visto anche l'imminente arrivo dell'ex Bari Langella che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. In attacco Grandolfo c'è ma non basta, il ritorno dell'attaccante barese in Puglia è un punto di partenza per sopperire agli addi di Bunino e Soleri, ma serve ancora qualcosa. Si lavora per portare in biancoverde Carletti, ex Carpi svincolato dopo il fallimento della società emiliana. Nel frattempo, occhio anche alle amiche Evoli, in cantiere un accordo con il Picerno per il 12 agosto e nei giorni antecedenti la Coppa Italia, i biancoverdi potrebbero essere ospiti del Ferrandina, team di eccellenza, per l'inaugurazione del nuovo stadio cittadino. Altra novità in società, Fabrizio Posado, ex assistente internazionale, sarà il nuovo club manager. E' un'altra novità in società, è un'altra novità in società, è un'altra novità in società,